Festività più sobri e controllate tra zone arancioni e giornate rosse, le restrizioni anti-covid scandiscono le ultime ore dell'anno. Per le forze di polizia l'impegno aumenta da San Silvestre a Capodanno, tra l'altro interessati da un coprifuoco più esteso fino alle 7 del mattino. Attività che sarà ulteriormente intensificata in vista dell'ultimo dell'anno e sarà anche in larga parte orientata a prevenire lo svolgimento, all'organizzazione di feste e di riunioni conviviali in violazione di quelle che sono le prescrizioni sanitarie. Le persone si riuniranno in casa e eventualmente voi come potete intervenire in questo caso? Sulla base anche di quello che accade o di quello che avviene sui social potremmo acquisire informazioni utili al fine di intercettare lo svolgimento di queste manifestazioni, di questi eventi non autorizzati in via preventiva. Nello stesso tempo potremo procedere sulla base anche di segnalazioni che ci dovessero arrivare circa schiamazzi, circa molestie o turbative alla quiete pubblica o altro. Il bilancio finora è positivo. Nel territorio pesarese circa 800 le persone controllate durante le festività e solo 17 violazioni contestate per quanto riguarda il divieto di spostamento. 290 invece le attività commerciali con appena una contestazione effettuata. È vero altresì che nonostante questa risposta positiva favorevole da parte della popolazione abbiamo elevato negli ultimi giorni in particolare diversi verbali di contestazione per il mancato rispetto di alcune di queste prescrizioni.